buongiorno a tutti noi siamo oggi nel tempio di karnak e qui questa sala ipostila la sala delle colonne con 134 colonne guarda qui come una foresta di colonne che hanno fatto gli egizi eccola ci sono qua colonne con il papiro chiuso rappresentare il fiore del papiro chiuso e quelli li sono colonne con il papiro aperto guarda qua la differenza e così hanno fatto due tipi di le colonne centrali sono alti 21 metri e laterali sono bassi 18 metri centrali sono papiro aperto laterali sono papiro chiuso come quello e il tempo questo parte del della sala era coperto di un soffitto di pietra ma il soffitto è crollato e così adesso stanno ristaurando di fare un altro di legno non di pietra e questo parte spiega bene come erano questi colori perfetti e questa è la finestra per permettere della luce di entrare dentro la sala così la sala era coperta di un soffitto di pietra e così loro hanno fatto finistre di pietra per permettere dell'aria e anche la luce di entrare e così a munra riceve l'offerta fiore